È una battaglia importante che stiamo vincendo giorno dopo giorno, dobbiamo evitare però che alcuni comportamenti non proprio regolari in qualche modo possano fare danno. E allora a che cosa ci stiamo riferendo? A quello che è il concetto di assembramento. Il decreto del presente Consiglio dei Ministri infatti vieta categoricamente le situazioni di assembramento. Che cosa si deve intendere con questa parola? Ma si deve intendere la possibilità che ci siano più persone che insieme escano in città per delle attività che non sono assolutamente di carattere ordinario. Quindi se possibile, quando è necessario soprattutto uscire di casa per recarsi in farmacia, per andare a lavoro, per acquistare il giornale oppure per andare dal tabaccaio o anche per fare attività motoria perché la norma favorisce l'attività motoria, tutto questo lo si può fare, anzi lo si deve fare da soli. Eventualmente, se c'è la necessità anche in due, purché si conviva sotto lo stesso tetto, in modo tale che qualsiasi cosa avvenga, tutto è riconducibile allo stesso ruolo familiare. Ma se si è in tre, sicuramente si violano quelli che sono i principi e la razio che è la base di questa normativa che oggi dobbiamo applicare. E un altro concetto importante è quello relativo all'attività motoria. Ecco, noi vogliamo favorire in qualche modo che venga portata avanti l'attività motoria come in questo momento l'ordinamento giuridico impone, soprattutto la norma della Presidenza del Consiglio dei Ministeri contenuta nell'ultimo decreto.